Siamo in diretta! Buonasera e benvenuti a giorno e notte! Ma è possibile con una piccola pillola potete abbuffare con tutte queste schifezze? E lo state chiedendo, vero? Ma solo una pillola può salvare il vostro corpo! La mattina e sera vi potete prendere giorni e notte! Vi posso far vedere cosa vi potete abbuffare la sera e il pomeriggio quando volete strafogare! Aspettate un quarto d'ora! Vai regia, puoi mandare le immagini! Babu! Regia! Regia! Ecco qua, grande regia! Vi potete abbuffare con Gnocchi alla Sorrentina! Grande Gnocchi! Grande! Poi potete abbuffare con patatine fritte e un po' che cotoletta! Ma non mettete troppo olio! Attenzione! Poi dolciumi! Grande regia! Adesso mi piace! E poi grande panino con come si chiama? Pupa no! Pupa ruoli e mulignana! Grandissimo! Poi potete mangiare anche... Babu! Ma è raggiù che si fa magni perché vi si fa un po' un po' sdomso! Poi potete mangiare grande Nutella, 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 grande Nutella party fate quando siete più bufati! Niente 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 più con queste robe potete mangiare tutto con due pinnone mattine e poi sera! Grazie adesso vi faccio vedere una cosa un nuovo concorrente qui che è venuto carissimo amico mio! Ciao abbiamo insieme quant'era a Masilo, guardate un po' Queciccio, venite un attimo a Kauci! Ciao Eciccio! Ciao bello ciao! Qui sta a posto? Chi? Ah! Grazie grazie per aver fatto molto bene, che abbiamo fatto stamattina tre due tre anni! Chi ma Ciccio devi sapere... Eciccio come mai hai perso tanti chili? Io ho perso tanti chili sinceramente la ragione è che ne ho una sola! gioia e notte ah, scusate ragazzi con giorno e notte vi dà una mano eccezionale vi dà una mano infinita è una cosa bellissima di varigli ragazzi, è bellissima infatti con giorno e notte basta solo 150 euro al mese gul 15 euro e pur la vendono in ogni farmacia oppure chiamate numero 899 ci possiamo vedere anche le tue foto vediamole giorni e notte, giorno e notte mangiano ricordi ma un milicianto oggi, ma ne fai giorni e notte, doppia azione 24 ore in funzione get away all the nation let me be the love that come from let me be your rainbow rising up every finger is outside space we'll shine up hey, shine up